Per questo io vorrei l'introduzione di un comma per le cause civili, il comma Luttazzi, secondo cui tu potente puoi farmi causa per 120 miliardi o per 20 miliardi come nel caso di Berlusconi, ma se la causa la vinco io, quei miliardi li dai tu a me, la prossima volta la smetti di fare il grasso con i tuoi soldi, vigliacco, e soprattutto serve che la macchina della giustizia...